Il Duce per la fondazione di Pontinia ha visitato alcune nuove case coloniche del comune di Sabaudia fra le festanti acclamazioni dei coloni. Il Duce, fra l'incontenibile entusiasmo di una folla di operai e di rurali, inaugura la centrale Idrovoro a Mazzocchio. L'impianto, che è stato costruito in soli dieci mesi, è uno dei più grandi d'Italia e serve a trasformare in forza motrice l'acqua che sette Idrovore traggono dall'agropontino per un'estensione di oltre 9.000 ettari e rovesciano il fiume Sisto, attraverso un ampio canale collettore. Sisto, attraverso un ampio canale collettore. Sì, 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 sì! Sì, sì, sì!